Carissimi, anche quest'anno sta per arrivare il Natale, una festa che solitamente ci fa così, ci fa esprimere sentimenti positivi, ma per noi Natale è Emanuele, Dio con noi, Dio che si fa uomo, Dio che sceglie di non risolvere i problemi umani, ma di condividerli, di farsene carico, anzi di assumerli su di sé. Natale è il memoriale di tutto questo, non solo un ricordo così come ricorderemo tanti avvenimenti passati, ma una realtà attuale, che ancora una volta quest'anno diventa attuale e presente per noi. Purtroppo ancora un Natale senza pace, in alcune, forse in troppe parti del mondo, come ben sappiamo. Forse ci siamo un po' rassegnati, diciamo che la guerra è inevitabile e allora questa è una tentazione proprio da rifuggire con tutte le nostre forze. Possiamo crederci in questa tentazione di considerare la guerra è inevitabile, ma la dobbiamo assolutamente, lo ripeto, rifuggire. Allo stesso modo di come potremmo avere la tentazione di pensare che la violenza sia inevitabile. Sì, la violenza di questo periodo troppa e gratuita. La violenza è sempre gratuita, in particolare quando è contro i più deboli, ma noi cristiani abbiamo la certezza, la certezza che la nostra via, la nostra sicurezza, è il Signore Gesù. In qualche modo dobbiamo ricordarci che la pace, la vera pace ce la può dare solo Lui, perché la pace è il primo dono di Cristo risorto, sì. La pace è possibile, reale, concreta, se diventa uno stile di vita nelle nostre case, nelle nostre scuole, negli uffici, nelle comunità, ogni giorno. Non possiamo invocare o pensare alla pace che lontana migliaia di chilometri e poi magari nelle nostre strade, nei nostri condomini la pace non c'è, perché non la viviamo. La pace deve essere praticata ogni giorno, ma forse ancora prima che praticata, custodita, seminata, accolta. Abbiamo vissuto un anno intenso, durante il quale abbiamo creato, provato a creare dei nuovi ponti tra le due chiese sorelle di Siena e di Montepulciano, quelle che mi sono state affidate, partendo dai giovani, poi dai più fragili, gli anziani. Abbiamo tutti ancora nella mente e nel cuore il pellegrinaggio dell'11 ottobre, vissuto con Papa Francesco, che ci ha invitato a seguire l'esempio di Santa Caterina e di Santa Agnese. E allora ci ha invitato a seguire l'esempio di queste due donne, di queste due sante, scegliendo proprio di essere protagonisti nel bene. E quindi puntando tutto sulla pace e sul rifiuto della violenza e anche sul rifiuto dell'indifferenza. Un anno importante lo sarà anche il prossimo, avremo nei primi mesi dell'anno, a marzo, la cosiddetta visita ad Limina, cioè l'incontro di tutti i Vescovi delle diocesi toscane con il Papa, un momento di confronto, di ascolto, per dirci quello che stiamo facendo, il cammino che stiamo facendo. E poi c'è la preparazione al giubileo del 2025, che spero diventi anche quello un momento di grande e forte intensità. E allora chiedo a tutti, vorrei chiedere veramente rivolgermi a tutte le comunità, in particolare penso ai genitori, di continuare ad essere vicini ai propri figli, fin da quando sono molto piccoli, parlandogli di Gesù, della Madonna, senza vergogna, bisogna farlo subito, anche se sembra che così quasi che non capiscano, che non comprendano, ma non è così. Poi voglio chiedere a tutti i ragazzi, ai giovani, una continua disponibilità, la carità al volontariato, in particolare nella diocesi di Montepulciano e in tutte le scuole, abbiamo lanciato un progetto che convolgerà i giovani, cioè chiederà ai ragazzi di conoscere perlomeno le realtà del volontariato presenti nella diocesi. Ho incontrato qualche sera fa delle giovani coppie che si stanno preparando a celebrare il sacramento del matrimonio, ho chiesto anche a loro questa disponibilità alla carità e al volontariato. Chiedo a tutti un deciso rifiuto della violenza, lo ripeto ancora, in tutte le sue forme. E poi chiedo rispetto, solidarietà, amicizia. Sì, lo so, mi direte, queste cose le sappiamo, sono abbastanza scontate, ma non possiamo finire di ricordarcelo, anche e in particolare in occasioni di questo Natale. Auguri a tutti!